Operazione antimafia contro il pizzo a Catania, 21 arresti. La polizia dice ancora pochi i commercianti che trovano il coraggio di ribellarsi. Fenisia Calluso. C'è scritto su Berenalotto, in realtà è l'elenco delle attività commerciali taglieggiate. Così si presentavano a riscuotri il pizzo da imprenditori e commercianti, aziende che da anni versavano denaro alla cosca, mediamente 250 euro al mese, un profitto annuale di 70 mila euro. Il clan è quello dei Santa Paola e Ercolano, il cui capo storico era un pezzo da 90 della mafia catanese, il boss Giuseppe Pulvirenti. Colpisce che in un'indagine nella quale ci sono ben 32 casi di estorsione, solo la metà sono stati oggetto di collaborazione da parte delle persone che definiremo parti offese. C'è un'altra metà che invece si è guardata bene dal denunciare e collaborare con la giustizia. 21. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere. Operazioni come questa, il commento del ministro dell'Interno Piantedosi, sono un segnale di supporto all'economia sana e a chi reagisce alle intimidazioni mafiose.